benvenuti in questo primo video della serie come sono diventato il professore come sono diventato poi uno youtuber e racconterò le parti più salenti della mia vita fino ad oggi soprattutto perché avendo fatto 15 anni di viaggi di raccontare un po cosa ho visto le cose che ho appreso e imparato questa idea è nata per causa di mia cugina che mi disse vedo che fai tante cose interessanti magari perché non spieghi realmente cosa hai fatto come sei arrivato a fine qua che consigli dai quindi racconta un po più di te e se devo iniziare dall'inizio è difficile però mi sono scritto gli step più importanti e quindi questo è il primo step uno dei primi ricordi che ho da bambino per capire come sono poi diventato così gli occhiali il primo ricordo che ci ho acceso è stato la mia prima passione ed era il che lo è tuttora il calcio questo è per dire cosa anche ai genitori di adesso no che spesso sono ossessionati dalla scuola ma credo che la cosa più importante che un bambino abbia il giusto tempo da dedicare ai propri obiettivi alle proprie passioni alle curiosità di scoprire cose che magari non conoscono ma devono sperimentare quindi non li ossessioniamo con lo studio lo studio andare bene a scuola perché alla mia età vi posso dire che i ragazzi che andano meglio a scuola non hanno un futuro brillante e quelle più scadente hanno avuto più creatività e qualcuno addirittura ha aperto delle imprese o il caporeparto qualcosa di importante quindi non è tanto la la qualità ma è la creatività che ti distingue nel lavoro la mia prima passione era il calcio tant'è vero che fu iniziare che io ero bambino ero piccolino e la prima volta che mi sono voluto iscrivere alla scuola calcio avevo sei anni i miei invece mi negarono questo passaggio perché mio fratello più grande era appassionato comunque avevamo dei cugini che stanno praticando il basket a piscina a me sinceramente il basket non l'ho mai compreso non mi è mai piaciuto non mi è mai interessato però secondo la pigrizia dei miei genitori mettere due figli più o meno di due anni differenza e quindi andare troppo troppe volte avanti indietro in due posti diversi era una scorciatura e quindi decisero mi obbligarono di farmi piacere il basket che magari mi sarebbe piaciuto io ero contrario e alla fine quell'anno siamo iscritti al basket mi ricordo che c'era un maestro abbastanza gentile che a me non mi piaceva quindi riusciva anche a palleggiare lasciavola guarda vinceva ma non mi piaceva era obbligato e lui dicevamo per farmelo piacere mi prendeva cosa che faccio adesso con i bambini mi è rimasta questa cosa mi prendeva di peso e mi buttava sopra il canestro e io buttava la palla dentro e vi posso garantire che anche così riuscivo a buttare la palla fu ma non mi piaceva proprio ci arrivava la carica non mi piace ma magari siete divertiti no non mi piace non mi piace così quando mio fratello dopo penso uno due mesi seppure lui si era scocciato io felicissimo non andare più passa l'anno non mi scrivono da nessuna parte ritorna questa altra stazione ovviamente parlo di settembre lo chiamo sempre stazione deve una altra settembre e quindi la mia età dalle 6 7 anni è saltata dalle 7 8 dico ci vedi questi anni a calcio però mio fratello aveva dei problemi penso di sovrappeso di postura sti cose qua tale da che il medico l'aveva suggerito di fare piscina e si doveva andare a qualiano e si ripresenta un'altra volta lo stesso problema per loro che mi pensano da gente dove tutti questi problemi non però per i miei genitori ma soprattutto per mio padre accompagnare due figli a due posti diversi mamma mia che fatica enorme allora noi a favorito la piscina credo che si arrabbiò pure perché io insisti insistivo nel nel voler fare il calcio no a piscina e piscina mi ricordo abbiamo fatto fino a gennaio stavo là nuotavo ma negavano così non riuscivo anche a fare di morta galla e ancora oggi io se vado a nuotare vado proprio contro voi cioè io non so nuotare morta galla marano una rabbia non ce la faccio stare solo per infrescarmi la nuotata non me la faccio e l'abbiamo fatto a fine gennaio fin quando mio fratello si era scocciato e non andato più ma io non contavo un calcio cioè qualsiasi cosa e quindi anche quell'anno fui abbandonato non mi dirò retto ok l'anno dopo mio fratello decise di fare proprio i calci erano già tre anni che stavo là ossessionato a fare che poi all'epoca praticamente era era nata pure c'era nata se era diffusa nella serie tv il cartone amato o le benci quindi io vedevo le benci rovesciate con li volevo poi sviluppare in un campo se sembra casa solo io me per la strada ma io volevo diventare un calciatore e quindi solo in quel periodo mi fu concesso l'opportunità di andare a giocare al calcio io sono contento e ricordo la prima volta che si comprava il kit andammo a comprare questo kit già anche perché era più costoso il calcio perché kit, magliette, pantaloni, scarpetti, testi, iscrizioni, assicurazioni e la prima volta che mi è andato il pallone ricordo l'odore del cuoio che lo adoravo e gonfio io andavo a dormire col pallone me lo mettevo come tipo come se fosse il cuscino cioè io il cuscino e il pallone dormivo insieme a me me lo abbracciavo io sognavo il pallone e diciamo quando ero piccolo c'erano tanti giocatori che io rimasi affascinato il primo è stato del Piero e quindi da piccolino quando ho visto la mia prima partita di calcio della partita di Champions League avevo 5 anni c'era del Piero che giocava e poi c'era anche il bacio della Juventus tale da farmi affezionare a questa squadra e là è stato il mio peccato più grande delle problematiche che poi mi sono portato che racconterò poi in seguito come un bambino napoletano di Mugnano posso difare una squadra come la Juventus senza contare che Napoli all'epoca stava addirittura in serie B c'era il Spook, Protti, sta gentaccia qua e la Juventus stava a pancia del Piero poi venne Vieri, Inzaghi, Zidane, Nedved, Davide, tutti questi grandi giocatori e quindi ero diventato come dicevano i miei amici un bastardo di Juventus arrivo a parte emozionato perché giocare là nel campo c'era il terreno non c'erano i campi in erba e i campi in erba negli anni 90 penso in tutta la campagna non esistevano a parte forse uno che era l'Equaliana che era di erba naturale quindi non piana era tutto fosso così però quasi tutti praticamente avevano questi terreni e cosa succedeva quando giocavi quasi sempre ti faceva male perché ogni volta che ti dava un calcio inciampavi una scivolata un contrasto ma il terreno non è sabbia ma c'erano pietre piccoli parti di vetro pietruzzole quindi ogni volta che andava per terra se ne andava tre quarti della pelle o acqua ossigenata adesso già non metto un tipo delle fiale invece noi acqua ossigenata con le bollicine poi i lacrime mi hai fatto ma metta un pietatino comunque stava sempre sul ginocchio cipucciata e il primo ruolo la prima volta mi misero terzino e sinistro che io odiamo fare terzino e sinistro e perché io già lo so se faccio questi video poi penso a quello che sono oggi e tante cose le facevo pure da piccolino no? e mi misse terzino e sinistro e gli dissi mister poi mister io faccio l'allenatore il capo di matura con me quando c'è qualcosa ne va ascolto quando ero piccolino dopo di papà azzardare dire mister guardate una cosa dimmi e che io penso che ok non giochi più guarda ma mister fuori non avevi diritto alla parola se qui si ingazzava questa agendaccia e quindi mi aveva messo terzino e sinistro terzino e sinistro che è un ruolo che io odia mio fratello già si era ritirato dopo un mese mi sa che si era ritirato mio fratello e invece mi fici tutto l'anno credo però quando c'era il fuori torsino e sinistro tanto è vero che poi dissi se papà già fu torsino e sinistro che secondo me era l'uno un castigo cioè io vedevo che cosa faceva da bambino quando eri scarso in difesa quando ero bravo in attacco quindi vedendo che l'allenatore mi mettevo in difesa io mi sentivo scarso ma come io sono furto a rio cioè non è che ero un campionato allora dico fammi fare il gol terzino mi arrabbiate allora sai che faccio ma che favo il portiere e sai a fare il portiere con i miei guantini buttavo a destra e sinistro perderammo tutte le partite e già i primi insulti i bambini la misa a porta e chissi la misa a porta mi feci quella stagione e l'anno dopo l'anno dopo ma io c'è se non fai quel di chi ma che è una terzina però la passione era troppo grande da continuare a fare il portiere l'anno dopo cambio l'allenatore e mi scenderevo e gli uccidere avanti che loro fai che lo voto bassa ma fai stavano io mi ero sempre sentito attaccante questo mister per cacciolo mi sa che si chiama mi mette alla sinistra che a me fase difensiva non ci andava proprio per loro passano scocciano però sulla fascia correvo come un pollo e quindi già giocavo con più con più passione un copacchella fascia sinistra poi la mia prima partita me la ricordo la mia prima partita terzino sinistro campo a metà praticamente metà metà del metà campo erano molto piccoli 8 e ci fu un'azione che eravamo in quattro in attacco contro i portieri in quattro però erano tutti molto gentili c'era in quattro e ognuno passava la palla a quella a fianco passa uno passa un'altra e io ero l'ultimo perché stavano a fianco però distinto ti calciai a porta e mi ricordo che ci ha messo un sacco di effetto non tirai forte perché ero indeciso se tirare o non tirare quindi il portiere andò verso il pallone il pallone con l'effetto tornò dalla parte opposta del portiere lui non la prese fece questa che noi chiamiamo la papera e io felicissimo che golo hai ho fatto un esultanza essendo meno di un paio d'ore poi la settimana dopo uguale mi ricordo un gol che non feci io ma feci un altro amico mio ma sta cosa mi stava dando un po' sprint praticamente al centro e poi sta mi cominciò un bar adesso io stavo al centro gamma porto palla i miei compagni andavano larghi in profondità e quindi portavo palla e nessuno mi veniva nessuno mi portava palla che si stava a fianco a me lui faceva il terzo sinistro più scarso arrivo bellevuno si ruba il mio pallone ma non è che fa il contrasto mentre io porto palla lui si affianca e tirano una botta non vuol dire esagerare ma dai centrocampio ovviamente porto palla centrocampio segna e mi fa così si fa e se ne fa e a tirare a tirare ingazzate con me perché non avevo tirato poi effettivamente io non già avevo quel tiro ero molto più piccolino e comunque questi sono questi ricordi di quando io ho iniziato il calcio a nove anni poi iniziano le medie e finisco questo episodio perché poi il calcio lo riprenderò quando quando poi diventerà una cosa un po' più seria alle medie quindi 10 11 12 anni fino a 13 a 10 anni facciamo il torneo scolastico primo anno fu emozionante perché il secondo anno non l'abbiamo fatto il terzo l'abbiamo fatto grazie a me grazie a perché non lo voleva fare il professore quindi il primo anno e arrivo ci sta il torneo scolastico c'erano le seconde e le terze nel primo anno allora abbiamo preso tutta la squadra e queste persone che nominano sono ancora amici miei c'era Agostino a porta Agostino è sempre stato un personaggio molto molto carismatico cioè belloccio tu ci sapeva fare quindi era un po' il trascinatore della classe quello che diceva Agostino quello che si faceva perché aveva proprio capacità di leadership poi io e Vittorio l'amico mio di Bank il caro Vittorio in attacco e dietro mettevamo quelli piscarsitelli insomma però noi avevamo Raffaele Sanzone che era una bestia Raffaele Sanzone era proprio quello che non vengono tre per strada che tipo criminale violento Sanzone faceva mettere paura poi ci stava Converso che era bravo con i piedi ma molto lento poi c'è Nicolo che ogni tanto lo facciamo giocare perché eravamo amici stretti però Nicolo era proprio uno dei più scarsi e allora si vedeva praticamente chi proprio si ogni tanto giocava pure sui scartitelli insomma ma questa era la nostra squadra cioè Guarino pure ogni tanto giocava quindi Agostino io e Vittorio Anans e in difesa stava Sanzone sicuro e poi giravano pure Biasaccapoici insomma questi nomi un po' così e forse Biasacca giocava di più rispetto agli altri perché almeno un po' più preparato quando uno di loro mancavano si doveva ruotare ruotavano la difesa con gli altri io e Vittorio quasi sempre giocavamo noi in attacco era bene prima di eravamo prima di giocare tu con te per dire noi stavamo in prima di perché facevamo il bilinguismo cioè la cosa che noi dovevamo imparare due lingue francese e inglese che noi gli Agostino Sanzone vittorio eravamo una classe ignoranduno proprio ignoranduno ignoranduno noi giocavamo a calcio la mattina alla sera però Agostino disse no ragazzi scriviamoci al bilinguismo perché ho mia cugina e voglio essere insieme alla mia cugina o noi potremmo dicere ma prima avrei la tua cugina ma andiamoci a fare solo inglese no no questa mia cugina alla fine per stare tutti quanti insieme guardi il compagnerismo abbiamo scelto di andare nella sezione bilingua quindi studiare pure di più purché di stare tutta la classe elementare insieme nella stessa quando poi siamo andati a vedere chi c'era nella sezione quella solo inglese dovevamo fare il bilinguismo veramente c'era Armando Pollicino proprio Giugno l'Antonio proprio l'universo proprio che mostrano a vendere le mozzarella che poi siamo tutti amici però tipo quella classe mi sa che c'erano 20 maschi e 3 femmine perché proprio i capri c'erano e non solo tanti loro vengono pure bocciati che poi raccontavano come un'altra classe inglese che era la F la F quindi A B C e D erano in classe A B e C erano in classe poco più importanti A D era proprio in classe F era proprio una lingua inglese ok quando inizia il torneo insomma quindi noi no aspetti l'Italia stava nella B però la F stava Fusco Fusco e tutti malviventi e Ottavio Pollicino stava nella B ma comunque spero che questo sia la migliore e quindi che poi alla fine tutta questa classe cioè tutti noi giochiamo un'altra squadra poi quando siamo cresciuti a 13 14 anni poi siamo andati a Caravizzano a giocare tutti quanti insieme i migliori di tutta l'istituta infatti abbiamo fatto un ottimo campionato proviamo quindi Fusco il portiere e Vittorio Ghiattuno alla F Ottavio Armando Pollicino nella B e noi Agostino nella D ok allora quella partita là il primo anno succede che noi ci qualifichiamo io faccio un golo con difficoltà perché noi dovevamo vincere avevamo fatto tipo due pareggi dovevamo vincere per forza l'ultima partita per qualificarci contro la e stavamo pareggiando io tirai da centrocampo perché poi avevo l'insegnamento io lo avevo tirai e tirai e tirai fuori il portiere andò a prendere il pallone e stava fuori lo buttò lui dentro quindi vincemo 1 a 0 al finale abbiamo passato il turno poi abbiamo fatto la semifinale andiamo in finale e in finale dovevamo giocare contro la F che era una squadra noi eravamo più forti e quindi ricordo che noi andavamo cioè più che noi perché per noi era il nostro primo torneo stavamo alla prima e però le ragazze della seconda e delle terze alcune proprio belle non stavano così facevano il tifo con i striscioni no c'è un ambiente sconvolgente per quello e noi eravamo emozionatissimi e noi volevamo vincere la finale contro la prima F non prima D andiamo a giocare la finale a un certo punto il prof fa l'allenatore e ci troviamo certi qua di una mai visti tre per la quale che erano un metro e ottanta ma rossi rossi avevano 15 anni 14 16 anni e poi ci siamo piaciuti noi abbiamo giocato e ci hanno detto questi qua sono dei ragazzi che fanno parte della prima F però sono sempre stato bocciati quindi non vengono mai a scuola però l'anni chiamato proprio per vincere la partita ma guarda questa gente di merda come non fanno parte della scuola sono bocciato non vengono sono di due tre anni più grandi di noi come cazzo lo facciamo a giocare e Agostino vincimo stessi da preoccupare siamo troppo forte vai che ce la faremo poi Agostino casava modamente allora abbiamo finito di protestare ma io volevo protestare la professoressa no uno su tre loro ma uno addirittura si chiamava Rambo poi io morivo Rambo si chiamava questo e a me contro Rambo comunque primo tempo arriva il pallone dal centrocampo non lo so però con le ragazze all'epoca non ero molto bravo infatti ero pure un poco antipatico io con le ragazze ma più che altro perché io a scuola andavo contro voi quindi a scuola stavo scazzato e stavo così quindi c'erano queste prime canchiello non ero capito poi sentivo sempre freddo quindi stavo un po' chiuso però e quindi a me non avevo mai considerato però in quella partita tutta la mia classe faceva il tifo per me già si notava un po' la differenza e sentivo sempre questa canzone faceva eh difetto difetto tira la bomba tira la bomba eh ma arriva un pallone al centrocampo e stoppio tiro dal centrocampo e segno papa era sempre del portiere non è che avessi fatto un tiro chissà lo portiere scappa il pallone dalla mano uno a zero per noi esplode tutto quanto io ero diventato il beniamino della mia classe che allegria eccetera eccetera fine primo tempo uno a uno ci segnano allora questi noi uno a uno un po' preoccupata così eccetera eccetera il sicco nel secondo tempo mettono rambo schwarzenegger e fidel castro tutti gli agenti enormi e noi il pallone non l'abbiamo più visto non l'abbiamo più visto per tutto il secondo tempo se loro corriva ma un altro passare comunque la partita finisce sei a uno sei a uno sei a uno di cui mi ricordo ancora un gol il quinto gol fatto da vittorio scogliamiglio col tacco addirittura palla lunga lui col tacco tu e segno senza muoversi da film ma noi ormai eravamo cotti ma proprio fino abbiamo pure fatti perché poi c'era pure a nicolo fammi giocare pure a me nicolo già stanno portendo gioco per il gioco a giro abbiamo fatto pure i cambi niente sconfitta se a uno ufficio ci hanno dato la medaglia secondo posto che io conserva ancora fiero insomma secondo anno non mi ricordo quale si mi ricordo uno il collega del nostro professore di educazione fisica ha avuto un problema molto serio fisico e quindi per rispetto del collega si è deciso di non fare il torneo del secondo anno il terzo anno il professore non stiamo ancora a così a così a questo faccio il mio professore non è che genio nel suo potere lo muro comunque io spingo facciamo il torneo e la finale la finale ricordo che vado a bussare a tutte le classi signori se volete partecipare abbiamo la finale del torneo di calcio e da tutte le classi perché volevo creare quell'ambiente ed era diverso rispetto al primo anno primo anno c'è un sacco di gente il volantino e così quest'anno anche perché il professore stava giù di morale non fu ben sponsorizzato allora cosa è successo che nelle qualificazioni non giochiamo contro la B che erano degli amici nostri ma più che altri amici di Agostino perché comunque erano amici miei ma cazzo di cavolo in su cioè come tutti quanti erano amici miei chi più chi meno ma non è che avevo preferenze invece Agostino aveva un certo legame noi già ci eravamo qualificati quest'anno e quindi ci siamo qualificati con te e la B non si era qualificata e stava a pari punto con altra squadra che stava sotto e Agostino viene e dice ragazzi noi siamo qualificati questi sono amici nostri facciamoli vincere facciamoli vincere così loro passano il turno cioè io non posso giocare per perdere perché chi è amico tuo cioè io devo giocare perché mi piace cioè non accetterei mai ma anche se mi paghi che io gioco cioè non gioco più che altro non gioco però io gioco e faccio vincere altro è un comportamento ma come si ma tutti quanti d'accordo con Agostino ci eravamo già qualificato Ottavio e Armando siamo amici nostri ci eravamo giulati comunque io non ero d'accordo però la formazione ufficiale io giocavo quindi quella partita che noi giocavamo contro la B loro giocarono pure in maniera molto più tranquilla insomma perché sapevano che avrebbero vinto però non sapevano che io non ero d'accordo insomma ma se già Agostino ci eravamo già parlato non fai preoccupato comunque appena arriva il pallone porto palla avanti tira a posto 2 e segno 1 a 0 oh ma cosa stai a fare comunque loro giocano e si fanno cioè si fanno segnare non fanno i contratti stai a dire segno oh mi è scappata così non si fanno segnare io o io con quella partita poi finisce il primo tempo mi vogliono togliere e io dico no io non mi vado che io devo giocare e viene il professore ti fai ma non ce l'ho capito o voglio giocare sempre tu o se mi fai sostituzione e mi fanno no forse non avete capito chi stanno giocando per perdere a me non l'ho perché sono l'unico che sta giocando seriamente ma capendo questa situazione il professore non si mise in mezzo io continuavo a giocare la partita ragazzi con la partita io feci quattro gol pigliavo la palla mi scartava tutto andava siano quattro gol però finisce 5 a 4 tutto contente cosa quando ci hai fatto fare così come hanno fatto fare l'autorità finisce 5 a 4 la b si qualifica noi già eravamo qualificati si fa il sortiggio e quindi semifinale vinciamo finale fatalità terza di noi contro terza b passano tutti e torno siamo in finale agostino già tutti che mi ha perso il viaggio mi fa no ma io per la finale con idea brillante ci ho parlato con mio padre mettiamo gli attaccanti in difesa e i difensori in attacco ma se non mi sa parlare questo film di lino bambino agostino ma chi cazzo lo sa per fare i difensori no ma perché mio padre è il giocatore più forte a essere in difesa perché così non abbiamo gol è che le scarse prima o poi un gol annanze lo farà quindi abbiamo vinto no agostino guarda non no ma non ti preoccupare e tutto quanto d'accordo ieri sempre quello che io ho contestato così però alla fine 5 contro 1 vabbè stendendo io vittorio correre in difesa dopo 5 minuti perdevamo 2 a 0 agostino state calmo stiamo capendo manco cazzo accadretto cambiamo andiamo io e vittorio in attacco facciamo due e due poi ricordo che o agostino fa una papra comunque che succede comunque ci fanno il 3 a 2 e io vittorio vittorio mi pare già vittorio mi pare già mentre vittorio mi pare già finì così la partita grazie agostino con le sue strategie e ricordo che andai l'agite agostino hai visto che se ti facevi i cazzo tuoi non vincevamo ma non tanto fatta la tattica che merda che hai voluto mettere ma perché questi qua la finale non la dovevano disputare però ti sei incanito perché sono amici degli amici e poi alla fine l'amico ci ha fatto servizi e noi siamo secondo posti per il secondo anno di fila e la mamma ha vinto questo torneo questo mi rimane impresso perché lui mi guardava gli occhi gonfi un po rossi perché lui non c'era rimasto male e sapeva che aveva ragione ok quindi ci vediamo al prossimo video che vi spiego come si sono evoluti queste classi la f con vittorio scogliamiglio con la b con ottavio armando michele miglari e tutti noi tutti quanti trasferiti in un'altra squadra di calcio a calvizzano come sono stato io eletto uno dei giocatori più forti dell'anno 88 al prossimo video qua sul canale del professore